Non so se vi sarà mai capitato di svegliarvi di notte con il cuore che batte all'impazzata e la fronte imperlata di un sudore gelido, tutto tace, nulla si muove ma avete la percezione che un'intelligenza maligna e occulta stia aleggiando intorno a voi poi si apre una finestra e si gonfia la tenda disegnando le figure più strane fino a quando lo vedete lì un morto che conoscete che con i suoi grandi occhi gialli vi invita a seguirlo, volete gridare, correre, chiedere aiuto ma il vostro corpo è paralizzato non sapete neanche se siete svegli oppure no, qualcuno vi sta succhiando l'energia e voi siete solo delle vittime Bene, questa è un'esperienza che nei secoli passati qualcuno avrebbe detto di incontro col vampiro Io sono Francesco Paolo De Ceglia, insegno storia della scienza all'Università di Bari Aldomoro dove dirigo il Centro Interuniversitario di Ricerca e Seminario di Storia della Scienza e mi occupo della storia, dei rapporti tra ciò che è scienza e ciò che non lo è e oggi vi parlerò dell'origine del mito del vampiro Perché tutto inizia quando qualcuno va a casa di qualche altro e pretende di comandare soprattutto di guardare le cose così come le ha guardate a casa propria Immaginiamo nel 1718 la monarchia sburgica, cioè l'Austria, si espande ad est sui Balcani e scopre delle tradizioni di popoli che fino a quel momento erano appartenuti all'impero ottomano molto strane, i morti ritornano i morti ritornano almeno secondo l'interpretazione degli austriaci ma questo è tipico da sempre dal mondo antico si pensava che le terre periferiche rispetto al centro della cristianità a Roma fossero abitate da mostri e da specie esotiche si pensava che ad esempio ai confini del mondo ci fossero i cinocefali persone con la testa del cane oppure i blemmi persone che avevano la testa incassata nel corpo oppure gli sciapodi ad esempio all'equatore persone con un'unica grande gamba un unico enorme piede che usavano come ombrellone per ripararsi dal sole è come se la natura avesse delle regole al centro ma potesse prendersi delle libertà nella periferia e in fondo anche se erano passati molti anni per gli austriaci questa posizione non era cambiata erano sicuri che dei Balcani sarebbe arrivata la minaccia anche perché gli austriaci avevano paura soprattutto degli ottomani che li avevano assediati già due volte e probabilmente li avrebbero assediati ancora i Balcani a questo punto rimangono militarizzati e non succede nulla non ci sono azioni di guerra ma mi piace immaginare questi soldati austriaci ma anche i serbi che lavoravano per gli austriaci come i soldati del deserto dei Tartari di Nobuzzati che scrutano l'orizzonte in attesa di un nemico che probabilmente non arriverà mai ma che è lì acquattato da qualche parte ed è pronto ad invadere le terre che noi diremmo civilizzata gli austriaci ritenevano che da sud sarebbe arrivato il male e che questo male non sarebbe stato necessariamente fatto di guerrieri di cavalli, di carri ma anche di morti che rappresentavano in qualche modo l'irregolarità nella fede nei rapporti tra vita e morte che nell'impero ottomano, quindi nel mondo musulmano gli uomini avevano l'incubo prese vita negli ultimissimi mesi del 1731 quando al luogo tenente di Belgrado giunse una supplica perché si occupasse di una strana epidemia che stava falcidiando molti villaggi nel sud della Serbia esattamente ai confini con l'impero ottomano il luogo tenente, ritenendo che si trattasse di un'epidemia comune d'altronde in quella zona la peste era endemica manda un primo medico di cui conosciamo soltanto il cognome si chiamava Glaser un medico esperto di contagi Glaser nel dicembre del 1731 insieme a pochi altri uomini si reca in questo villaggio che ad un certo punto diventerà l'epicentro del vampirismo europeo Medvegia Medvegia era una realtà che probabilmente all'epoca contava una decina di focolari e da un po' di tempo si erano affastellate delle morti un po' strane soprattutto Glaser interroga i superstiti l'interroga non sappiamo bene come perché Glaser era tedesco i superstiti parlavano un dialetto serbo e probabilmente lui aveva un interprete la storia dei vampiri spesso è fatta di traduzioni che non sono soltanto traduzioni linguistiche ma sono traduzioni concettuali quello che riesce a capire Glaser è che non c'è la peste che era stata paventata ma c'è qualcosa di più strano perché i pochi sopravvissuti raccontano di svegliarsi la notte e di guardare da qualche parte vicino al proprio letto delle persone che sono morte da poco e che sono state inumate persone dei grandi occhi gialli che li invitano a seguirli e loro non riescono a muoversi ebbene dopo tre o sette giorni queste persone muoiono un po' quello che succede nel film The Ring quando la bambina telefona e annuncia ai malcapitati che moriranno dopo otto giorni le dinamiche narrative spesso sono le stesse e a questo punto gli abitanti del villaggio lo conducono nel cimitero perché hanno già disseppellito i morti delle ultime settimane e per loro l'indizio di vampirismo è la mancata decomposizione qui cercherò già di spoilerare qualcosa perché il vampirismo è un fenomeno eminentemente invernale ed è eminentemente invernale per un motivo pratico e per un altro simbolico per un motivo pratico perché è più facile trovare dei morti indecomposti specialmente a latitudini un po' più elevate rispetto a quella a cui ci troviamo noi ma anche perché l'inverno per una cultura essenzialmente agropastorale è il periodo della notte della morte è il periodo in cui si è seminato quel che si doveva seminare e non si può fare nulla è un periodo di sospensione delle attività agropastorali in cui la gente spesso nel passato quando non c'erano fonti di energia che permettevano l'illuminazione e il riscaldamento passava la vita a dormire per non consumare energia vivendo in quello che si chiama sonno bifasico cioè un sonno in cui dormi ti svegli fai qualcosa ti riaddormenti e alla fine non è particolarmente chiaro che cosa è hai visto nel sogno che cosa è nella realtà e soprattutto all'interno di questo grande orizzonte nero che sono i mesi invernali c'è nel mondo slavo ortodosso un periodo di 12 giorni che sono i 12 giorni di sospensione per eccellenza sono i 12 giorni che vanno da Natale all'Epifania originariamente era un problema meramente astronomico è un modo per conciliare i due calendari quello lunare e quello solare ma con il cristianesimo si incomincia a raccontare che sono giorni in cui Cristo è nato Natale ma non è stato ancora battezzato non c'è stata l'Epifania quindi è come se nel mondo esistesse una divinità potente come quella di Cristo ma ferina selvatica pagana ecco perché quei giorni venivano considerati i giorni vampirici o i giorni della cenere giorni in cui non si poteva far nulla perché i vampiri erano per strada giorni in cui non si poteva morire perché sennò si sarebbe diventati vampiri in cui non si poteva nascere perché si sarebbe diventati vampiri in cui i vampiri ritornavano a richiamare i vivi dicevamo che Glaser proprio in quel periodo invernale vede questi corpi dissepolti lui è un medico non è un chirurgo quindi l'anatomia la conosce a spanne siamo ancora nel 1731 ma si rende conto che ci sono due corpi che sono i corpi indicati dagli abitanti del villaggio i quali sono probabilmente meno decomposti degli altri e quindi i corpi degli arci vampiri d'arche principio cioè coloro che avrebbero propagato l'infezione e guarda caso si tratta di corpi di due donne la prima si chiama Milizza una donna che viene descritta come una donna piuttosto anziana anche se poi probabilmente avrà avuto una cinquantina d'anni non di più e si dice che durante la vita era molto magra questo ci farebbe pensare che avesse anche difficoltà a procurarsi del cibo ma che aperta la tomba è diventata grassa è normale durante le prime fasi della decomposizione ma per gli uomini le donne dell'epoca è la vendetta di quella donna che sta suggendo le energie agli altri del villaggio sta mangiando il pane degli altri del villaggio quello stesso pane che loro con lei non avevano mai voluto condividere quindi candidata primaria a ritornare come vampira e l'altra è sempre una donna che in due documenti diversi troviamo chiamata stanno o stana e risulta morta di parto quindi quale personaggio sarebbe stato più perfetto come candidato a ritornare dal mondo dei morti la cosa che più intelerisce di stanno dei documenti i documenti sono sempre verbali scritti da ufficiali asburgici poco sensibili alla dimensione umana quindi vanno sempre letti in filigrana e che in un secondo verbale si dice che il bambino era stato sepolto non con i cristiani perché non era stato battezzato e probabilmente non era mai nato ma è stato sepolto dietro un cortile vicino di una staccionata accanto alla casa dove viveva la madre non dove vivevano i genitori la qualcosa farebbe pensare che anche in quel caso non ci fosse un padre pronto a rivendicare la completa marcescenza del corpo per far sì che venisse stornato il pericolo di trovarsi di fronte ad un vampiro e in questo secondo verbale che verrà redatto qualche settimana dopo si dice una cosa straziantissima perché tra la prima e la seconda ispezione passano alcuni giorni i corpi probabilmente vengono ricoperti da un po' di terra il corpo del bambino non viene più ritrovato e dice il secondo ufficiale perché probabilmente divorato dei cani e questo mi faceva pensare a questo bambino tristissimo a cui la ma la sorte era aderita addosso ancora prima della nascita e che aveva avuto questa conclusione così drammatica comunque le prime due arci vampire sono due donne due donne perché noi quando immaginiamo la figura del vampiro mitologicamente abbiamo in mente un uomo in quasi tutte le culture poi naturalmente c'è stata una grande rielaborazione letteraria quindi ci sono personaggi vampirici al femminile ma normalmente l'emersione mitologica prevede che sia un uomo a compiere queste azioni mentre se andiamo a leggere i documenti degli ufficiali asburgici o comunque i documenti che ci sono rimasti su coloro che hanno avvistato i vampiri o presunti tali troviamo spesso delle donne e in genere si tratta di persone del tutto marginali rispetto alla comunità sono persone in fondo che hanno che non hanno nessuno che possa andare a difendere il loro corpo quindi a diventare vampiro sono sempre le persone più sole le persone ai margini perché il conte Dracula il signor Dracula con il suo castello i suoi blasoni è un'invenzione letteraria in realtà l'unico corridoio con gli stemmi alle pareti che i veri vampiri quindi queste donne avevano attraversato era il corridoio del castello della loro disperazione quando il verbale del medico Glaser arrivò al luogo tenente di Belgrado e gli capì che qualcosa di strano stesse succedendo e che non si trattava della solita epidemia quindi avvisò immediatamente Vienna e come fosse un fulmine partì l'ordine perché un medico più titolato un chirurgo dal nome Flückinger potesse andare a compiere delle autopsie e ad accertarsi se davvero le cose fossero andate in quel modo Flückinger arrivò a Medvegia proprio nei dodici giorni vampirici nel periodo più drammatico della vita degli abitanti di quel posto e probabilmente se ci immaginiamo la scena la gente del posto vi gridava nelle orecchie vampir 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 perché il suo verbale è pieno di questa parola che all'epoca per un europeo non significava nulla era apparsa occasionalmente in qualche rapporto orientale ma non significava nulla per un tedesco né per un francese né per un italiano lui compie queste autopsie ma ci immaginiamo delle autopsie molto rapide anche perché in un breve pomeriggio invernale compie più di una decina di autopsie e grossomodo conferma le intuizioni di Glaser ma gli viene raccontata una storia che a Glaser non era stata raccontata che si dice che cinque anni prima era morto un altro individuo che era stato accusato di vampirismo si chiamava Arnold Paone uno dei primi vampiri di cui abbiamo nome e cognome anche se poi i linguisti adesso dicono che Arnaut era il nome con cui gli ottomani definivano gli albanesi quindi Arnold Paone probabilmente era semplicemente Paolo l'albanese anche lui un marginale il quale era caduto da un carro di fieno si era spezzato all'osso del collo e poi era andato ad importunare la gente la gente era seccata da questo da questo essere presente assillante di Arnold Paone avevano visto Arnold Paone relativamente indecomposto gli avevano tagliato la testa e gli avevano conficcato un paletto nel cuore udendo un sibilo che era stato interpretato dalla gente del posto come l'urlo del vampiro quindi aveva dato conferma l'idea che il vampiro fosse ancora in qualche modo vivente questa storia viene inserita nel secondo verbale e poi questo verbale ad un certo punto sparisce e si trova pubblicato in una rivista olandese in francese quindi già destinata al pubblico internazionale ed è interessante che innanzitutto è questo secondo verbale pubblicato sulla rivista che fa scoppiare la paura per i vampiri il 1732 perché l'articolo sarà pubblicato nel marzo del 1732 diventa l'anno dei vampiri ci dice Ranft un diacono luterano che alla fiera di Francoforte non si poteva entrare in una libreria senza essere letteralmente sommersi da libri su vampiri e tutti incominciano a scrivere nelle varie riviste di aver anche loro visto il vampiro di avere una testimonianza ma soprattutto riprendono questa prima testimonianza di Medvegia di un vampiro che in fondo non aveva visto nessuno perché gli eventi erano successi cinque anni prima rispetto a quelli accertati dei medici ma quando ho studiato questi documenti mi sembrava che Arnold Powell potesse conferire una sorta di colonna sonora al 1732 perché questo suo sibilo diventa un urlo sempre più forte man mano che rimbalza da articolo ad articolo come un bollitore lasciato sul fuoco che inizia a fischiare fino a quando quel sibilo ti riempie le orecchie e sei costretto a sollevare il bollitore l'urlo del vampiro fa credere immediatamente a tutta l'Europa occidentale che esista un esercito di morti in Europa centro-orientale che si risvegliano per una sorta di malattia il discorso teologico non è particolarmente presente anche perché ad aver accertato questo stato di indecomposizione non sono stati dei preti sono stati dei medici e la medicina che ha certificato l'esistenza dei vampiri o almeno l'incorruzione di alcuni corpi dopo tanto tempo nel settecento nascono le fake news e soprattutto da un giorno all'altro si diffonde il termine vampiro un termine che alla fine riguardava soltanto i vampiri di Serbia perché in realtà se prendiamo quella che viene chiamata la cintura europea dei vampiri che va dall'Islanda fino alla Grecia ci rendiamo conto che i nomi per designare i vampiri erano tantissimi cambiavano da villaggio a villaggio e soprattutto erano nomi che descrivevano personaggi mitologici anche assai diversi tra loro quindi noi abbiamo l'idea del vampiro che succhia il sangue ma questa è un'idea che diriva più da Bram Stoker i vampiri vengono chiamati succhia sangue non perché ci sia mai una testimonianza di un'azione meccanica del vampiro che avvicina i canini e succhia il sangue da qualcuno ma semplicemente perché li si ritrova gonfi nelle proprie tombe e quindi a distanza senza alzarsi probabilmente hanno succhiato il sangue l'energia l'aria altri vampiri succhiano il latte sia delle madri che stanno allattando sia degli animali poi ci sono i miei vampiri preferiti che peccato credo non siano mai esistiti perché c'è un tipo particolare di vampiro che succhia il grasso quindi la liposuzione probabilmente è nata con i vampiri gli eventi vampirici in genere sono connessi a culture ortodosse ma l'Europa dell'epoca era frammentata e soprattutto i due big erano la cultura cattolica e la cultura protestante che prendevano questi eventi accaduti nel mondo ortodosso per gettarsi reciprocamente del fango addosso per i cattolici i vampiri non potevano essere veri perché dicevano guardate gli unici corpi che rimangono incorrotti sono quelli dei santi quindi può capitare che qualche corpo non si decomponga ma in quel caso si tratterà di fenomeni naturali quindi sciocchi voi i protestanti che credete ai vampiri i protestanti dall'altro lato dicevano ma no i santi non hanno il corpo incorrotto non è scritto da nessuna parte del vangelo se dei corpi rimangono incorrotti è perché probabilmente c'è lo zampino del diavolo quindi voi cattolici siete sicuri che i santi che venerate nelle vostre tombe e nelle vostre chiese non siano altro che vampiri semmai mantenuti incorrotti per uno scherzo divino si apriva quasi il fronte tra l'Europa dei santi e l'Europa dei vampiri e fino a quando le cose rimanevano così nonostante poi ad un certo punto il papa sia costretto ad aggiungere un capitolo nel suo mannale per la canonizzazione dei santi Prospero Lambertini papa per eletto quattordicesimo per dire che i vampiri non esistono e immaginate che cosa significhi dal punto di vista dell'autorevolezza della chiesa dover scendere in questi dettagli e dover parlare di vampiri mentre sta parlando di santi quindi non era un problema secondario la gente ci credeva davvero e anche le alte sfere della chiesa avevano bisogno di una risposta ebbene mentre l'Europa centro-occidentale si confrontava con queste questioni teologiche c'era l'Europa centro-orientale dove i fatti succedevano davvero e lì succedeva qualcosa di assolutamente strano perché gli ortodossi credono sia ai santi sia ai vampiri e quindi il problema si poneva nel momento in cui si incontrasse il corpo incorrotto o non particolarmente decomposto di qualcuno di cui non si conosceva la storia e bisognasse capire se fosse un santo oppure un vampiro se c'è una carestia un'epidemia un qualcosa un evento negativo probabilmente si tratta di vampiri quindi li si brucia se c'è una guarigione miracolosa qualcosa di bello che investe il villaggio sono dei santi quindi lo stesso corpo di cui si conosce la storia può dare luogo a due narrazioni contrastanti e lo stesso soggetto può essere un santo o un vampiro a seconda dei punti di vista però questa storia stava andando un po' troppo per lunghe Maria Teresa d'Austria capì che il lungo inverno iniziato nel 1732 avrebbe dovuto concludersi quell'anno era il 1755 se il Natale era stato un Natale di resurrezione un rosso Natale la Pasqua sarebbe stata una Pasqua in cui sarebbe risorto l'unica persona titolata a farlo a questo punto nel marzo del 1755 Maria Teresa invia una nuova commissione medica che sa già che cosa dire ma compie le ispezioni e si rende conto che anche queste presunte indecomposizioni sono indecomposizioni naturali che la gente muore perché è malata e non perché è stata infettata dal vampiro Maria Teresa usa questa relazione scientifica per emanare un riscritto nel marzo del 1755 in cui dice questi fenomeni succedono sempre nei paesi più periferici dove non c'è il controllo dello Stato e neanche il controllo della Chiesa non posso dire se i fenomeni esistono davvero però da ora in poi voi porterete le carte a Vienna e io Regina dice nel riscritto in latino di caso in caso di caso in caso deciderò come procedere da quel momento dal 1755 si abbattono verticosamente i casi accertati di vampirismo ma anche di stregoneria in Austria chissà se le streghe hanno mai ringraziato i vampiri per essere state anche loro un po' alleggerite da una pressione che negli ultimi anni in Austria sembrava essere particolarmente pesante lucy di Grazie a tutti.